Hendrick, la nuova stella brasiliana di 16 anni il Real Madrid, la cifra è pazzesca. Un'operazione complessiva da 72 milioni di euro. Ecco quanto sarebbe disposto a pagare il Real Madrid per portarsi a casa Hendrick. Nuova stella del calcio brasiliano. Il 16enne attaccante del Palmeiras è un predestinato e, secondo quanto riportano Marca e O Globo, avrebbe convinto i dirigenti del club spagnolo a puntare con forza su di lui. Il Real Madrid avrebbe accettato di pagare i 60 milioni della clausola recessoria, prevista dal contratto. Il primo da professionista, firmato dal giovane, più 12 di tasse. Il terzetto con Vinicius e Rodrigo Hendrick. Nelle intenzioni della società spagnola, andrebbe ad aggiungersi a Vinicius e Rodrigo. Formando un terzetto di stelle brasiliane. Anche loro vennero acquistati, rispettivamente dal Flamengo e dal Santos, quando erano ancora minorenni e lasciati ai club di appartenenza fino al compimento della maggiore età. Anche in questa occasione il Real ripeterà questa modalità, portando il gioiello del Palmeiras in Spagna solo a luglio del 2024. Quando compirà 18 anni. Per Hendrick, riferisce la stampa brasiliana, si era fatto avanti con decisione anche il PSG. Offrendo 80 milioni in totale per lui e per il 15enne Estevao, altro grande talento, ma la società campione del Brasile non aveva ritenuto congrua la proposta. Virgola.